Ah, ah, questa volta soltanto il tavolino ha fatto il birbano Ok, grazie mille Pancarrè Buongiorno e buonasera dal vostro suirito ragazzi e ragazze Ed eccoci con questo nuovo episodio di Spooky Sauce of Jumpscares In live Probabilmente ci sarà anche la chat in questo gameplay Quindi iniziamo subito Siamo alla stanza 800 Mancano altre 200 stanze Sperano che non verranno poi degli imprevisti a rompere le palle Oh, che bello Molto Cioè, dove siamo? Cos'è questo? Wow È una villa Sono all'interno di un'altra villa C'è la villa dentro la villa Ecco, è un ovetto kinder Oh mamma santa Ah, qua si entra Oh Oh Ma che sono? I peperoni Avevo un certo langurino Questa forse sarà l'ultima cena dello su Spero di sbagliarmi Questa villa è strana Vabbè, la vegetazione è dipinta Ogni cosa è qui È farsa Una cantina Una cantina Che c'è scritto qua? Ho bisogno di nascondermi Io penso che Che è fuori alla porta adesso Come sarebbe a dire che è fuori alla porta adesso? Ma No No raga, io ho paura di aprire sta porta Ho bisogno di nascondermi E dove cacchio mi metto? Porca di quella cotoletta impanata Ah, qua dentro C'è qua dietro Io non vedo nulla Oh 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 mamma Ma questo non è una specie di citazione a clock tower Più o meno Che ti devi nascondere No Ma non posso stare con l'ansia addosso Ho paura Ma non posso rimanere qui per tutto il gameplay No eh Ma è un'ascia Non posso ammazzarlo a sto stronzo Forse devo salire per la camera da letto No no Ah penso che Aspetta 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 Ma Ma sta arrivando qualcuno? No No questo mi ricordo forse un po' pure Come si chiama? Amnesia Che ti nasconde negli armati Ho bisogno di nascondermi Ancora? Ma porca miseria Porca miseria Ma vaffanculo Sono morto come un coglione Ho bisogno di nascondermi Eh grazie eh Per avermelo detto in tempo Si vabbè ma è una palla No che qua ogni volta che si mura Si ricomincia E il problema è che questo qua Ti ammazza in un colpo Ah Ah questa volta soltanto il tavolino Ha fatto il birbano Ok grazie mille pangarrè Però non ci stanno le mutandine Dello zu Vuol dire che non ti mangerò Mamma santissima Quello ogni volta viene generato Tutto casualmente Vaffanculo Vaffanculo Mamma mia Non voglio le coccole da lui Per favore Voi dite che non accetta la friendzone Se n'è andato E ha lasciato una chiave C'è in qualsiasi gioco horror C'è i mostri Cagano chiavi Pure Yuka Ah beh Yuka cagava Più che altro videocassette Ma va bene Ho ottenuto una chiave a random Vediamo un po' dove utilizzarla Questa chiave Ma forse ho capito dove Secondo me è qua Vorete vedere No è chiusa Qua qua è tutta rotta Non mi piace qui sinceramente Oh una chiave Sto prendendo chiavi su chiavi Io mi perdo Minchia Sicuramente Non utilizzerà profilattici Quel tizio Dove cacchio sta No Mamma mia Buonanotte Ed eccolo qua di nuovo Mamma quanto cacchio è brutto Ma che ha l'Alzheimer C'è una falce Più grossa la falce che lui Oh ma manco se ne va No Non venne di qua Se n'è andato Meno male Cos'è qui Un libro falso Sa devo ritornare in libreria Allora Un bel pianoforte Ma dove cacchio era la libreria Porca miseria Eh ma la troviamo In effetti avrei bisogno di un po' di cioccolata Ho bisogno di energie Ecco qua Dove si mette il suo libro falso Qua è tutto uguale Forse è qui Sì Passaggio segreto E si scende No Dove cacchio siamo Spero di non morire Perché di fare tutto È una palla Eh beh Adatte che si stai mangiato Tutto Gelato Nutelle E dolcetti vari Non riesco a capire Che eccitazione è questa Sinceramente Sì la zuccaverna L'altro che batta Ma Oh Corriamo un poco Non è Non è Questo mi insegue ancora Oh mamma È proprio vicino Eh guarda Sarebbe Molto preferibile Oh ma non esce Non se ne va Via Da qui Che non avrei il mio culo Mamma santa È uscito È uscito Alleluia Ma qua a volte ci sta qualcosa È una chiave Dobbiamo tornare indietro C'è un fottuto Labirinto Cosa cazzo era Quella cosa Ma è stata una mia Allucinazione O Che cacchio era Cioè Rimango Cioè Sono stato trollato Che era Ma non viene Ma devo riscendere O forse no Ah Probabilmente no Ragazzi Perché ci stava una porta Vi ricordate Che era Chiusa Ho visto il mostro Di là Ragazzi Attraverso questo muro Forse era un bug No No Non ti incastra Corri 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 Lo sapeva Che poi ci sarebbe stato L'inseguimento finale Corri 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 No 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 Questo è pure veloce Secondo me È tutto troppo Calmo adesso Che zucca di merda Corri Corri Quello mi sta inseguendo ancora Ma vaffanculo No Lo sapevo che era lui Lo sapevo che era lui Non è Che culo ragazzi Camminare all'indietro Non ho visto Quest'altro jump scare Che cosa bella No 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 noάν Ma vaffanculo Ma vaffanculo Sì ma È difficile evitarlo Quando bisogna girare su se stessi Non mi ha spaventato neanche questa Meno male Perché sto troppo concentrato E mi sa con qualcosa Ma io lo sapevo Che cacchio Due volte di fila Sempre la stessa faccia Devo girarmi Ecco lo sapevo infatti Te l'ho messo in culo bello mio Vate a trovare un altro Pinocchietto in culo vai Suona male lo so Però mi piace dirlo Oh finalmente Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta veramente Oh eppure mi hanno fregato Alla fine E infatti eccolo qua Le ultime parole famose Maledetto computer Vabbè danno non c'è bisogno di controllarlo E siamo arrivati alla 900 Ciao gattino Bello fare il sollevamento pesi Ok perfetto ragazzi E' questo punto di concludere questo episodio Spero che vi sia piaciuto Se volete commentate E alle prossime Ultime 100 stanze Ciao 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 c'è chiudere il sollevamento pesi